Gentili telespettatori, benvenuti con il nostro telegiornale regionale. In apertura andiamo subito a Pordenone e parliamo di un tema che sta suscitando molte discussioni, quello delle vaccinazioni. Infatti a Pordenone si dice che bisogna partire proprio dagli operatori sanitari per ristabilire quello che è lo standard alto degli anni passati. Il primo obiettivo è tornare ai livelli storici che nel friulio occidentale sono sempre stati sopra la media regionale. Il secondo invece è cercare di convincere gli operatori sanitari a vaccinarsi. Parte con questo spirito dall'indedì prossimo la campagna di vaccinazione antinfluenzale in provincia. La destra tagliamento ha sempre avuto percentuali di adesione che superavano anche il 75%. Lo scorso anno la debacle con un modestissimo 50%, causato dalla paura che il vaccino, dopo alcune morti sospette, potesse essere pericoloso. Il risultato è stato che l'influenza ha colpito molto di più e anche i decessi correlati al virus influenzale hanno superato lo standard. La notte dolente nella friulio occidentale. Tra medici e infermieri si vaccina una percentuale che va dal 3 al 7%. È una delle più basse in assoluto, pur stando comunque nella media regionale. Difficile quindi pensare che un medico, alla quale non sfiora neppure l'idea di vaccinarsi, possa essere convincente con un paziente. La AS numero 5, per cercare di tornare ai livelli di vaccinazione storici, ha mobilitato uomini e mezzi. Sono stati sollecitati i medici di medicina generale, in modo che spingano i pazienti anziani e quelli con patologie, ma soprattutto nelle strutture sanitarie pubbliche, i capi servizi dovranno monitorare i dipendenti e convincerli a vaccinarsi. Non sarà facile. Aperti tutti i distretti, ampliati gli orari, farmacie a disposizione, soprattutto disponibilità in tutte le sedi sanitarie, completano il quadro degli interventi. La vaccinazione anti-influenzale viene offerta gratuitamente alle persone con più di 65 anni, a quelle a maggior rischio di complicanze perché affette da patologie, tra cui respiratori e oncologi, o a chi riveste un ruolo strategico nel controllo della diffusione della patologia. Il virus dell'influenza sono facilmente trasmissibili e soprattutto possono generare gravi complicanze, spesso sottovalutate. Non a caso anche in provincia, l'influenza è la terza causa di morte per patologia infettiva. La malattia colpisce tutte le età, in particolare la fascia da 0 a 14 anni. Per quest'anno si prevede che i ceppi virali circolanti saranno in parte diversi da quelli dello scorso anno, per cui il vaccino è stato parzialmente modificato rispetto al precedente. In provincia ci sono già alcune persone malate, ma non si tratta di influenza vera e propria, ma di virus para-influenzali che solitamente determinano gli stessi sintomi, pur con temperature meno elevate. Il virus potrebbe iniziare a circolare già dall'inizio del prossimo mese, ma il punto più alto si avrà a metà gennaio. E a Caneva un uomo truffava aziende vinicole utilizzando il nome di una persona defunto, però è riuscito a mettere a segno molte truffe per un totale di ben 36.000 euro. Acquistava vino nelle aziende agricole della Piedemontana usando il nome di una persona deceduta. Nei Guai, BS 41enne napoletano, residente a San Francesco del Campo, in provincia di Torino. In questo modo ha messo a segno due truffe da 23.000 e da 13.000 euro ed è stato identificato e denunciato dai cababinieri per truffa continuata e sostituzione di persona. Le indagini sono cominciate lo scorso luglio in seguito a una denuncia da parte di AZ di 57 anni, originario di Conegliano, socio e amministratore dell'azienda agricola Cademocenigo. L'imprenditore vitivinicolo aveva ricevuto l'ordine per una fornitura di vino da parte dell'Agrifruit France o della società francese con sede ad Ieres, intestata a Michele Boccale. Tra maggio e luglio aveva consegnato vino per 23.000 euro. Monsieur Boccale aveva pagato con assegni i tratti su una banca francese, risultati privi di copertura. L'imprenditore si è reso conto di essere stato truffato. Non solo il conto corrente era vuoto, ma la firma sull'assegno era irregolare. Le indagini hanno scoperto che Boccale non era un imprenditore fantasma, ma era morto. B.S. aveva utilizzato ditta e nome per aggirare l'azienda friulana. Attraverso gli accertamenti sui tabulati telefonici ed informazioni acquisite dall'autista che aveva consegnato la merce, i carabinieri sono risaliti al 57enne napoletano. A settembre un'indagine fotocopia ha impegnato nuovamente i carabinieri. A rivolgersi agli uomini dell'arma è stato MP, titolare di un'altra azienda agricola di Caneva. Anche lui denuncia di un raggiro. E al centro della truffa c'è sempre B.S., che attraverso l'agri-fruit-friends del defunto Michele Boccale si fa consegnare vini pregiati per un valore di 13.000 euro. Anche in questo caso il pagamento viene fatto con un assegno, tratto dalla stessa banca francese, con firma non conforme. L'incrocio dei dati bancari e dei tabulati telefonici ha permesso ai carabinieri di denunciare a piede libero, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, il 41enne napoletano. Parliamo ora di violenza sulle donne. Andiamo a San Daniele del Friuli, dove una donna marocchina è stata segregata in casa per circa un anno dal marito, ma ad un certo punto è riuscita a lanciare l'allarme via Skype ai familiari in Marocco e per l'uomo è arrivata la condanna a due anni. È stato condannato a due anni di reclusione il 37enne marocchino, residente a San Daniele del Friuli, accusato di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni ai danni della moglie. Una connazionale di 24 anni. Il verdetto, pronunciato dal gruppo del tribunale di Udine Matteo Carlisi al termine dell'abbreviato, è arrivato ieri, a quasi un anno esatto di distanza dai fatti. Era a fine novembre 2014 quando il caso era venuto alla luce, dopo una disperata richiesta di aiuto lanciata via Skype dalla donna ai familiari in Marocco, al culmine di quello che aveva raccontato essere stato l'ennesimo episodio di violenza domestica. Quella sera il marito aveva notato un segno sul volto e, ingelosito, aveva cominciato a chiedere chi glielo avesse procurato. E quando lo aveva prerogato di fare piano, aveva cominciato a picchiarla selvaggiamente, rovesciando i mobili della stanza, prima che lei riuscisse a sfuggire alle botte e a barricarsi in camere. Ai carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli e agli agenti della polizia municipale intervenuti per salvarla, la donna aveva poi raccontato otto mesi di maltrattamenti e soprusi, di aver vissuto praticamente segregata in casa dal suo arrivo in Italia, chiusa a chiave dal marito e impossibilitata ad uscire, se non in pochissime occasioni e sempre nella presenza del consorte, per sbrigare alcune pratiche o fare la spesa. La pena è la stessa chiesta dalla procura della scorsa udienza. Di tutt'altro avviso l'avvocato Stefano Arpino, difensore dell'uomo, che già preannuncia appello. Sulla base di alcune indagini difensive che avrebbe dovuto smontare il racconto della donna, escludendo maltrattamenti e sequestro, il legale aveva chiesto la soluzione perché il fatto non sussiste. Per il reato di lesioni aveva chiesto invece di non doversi procedere per l'intervenuta remissione di querela, previa riqualificazione del fatto inapercosse. La moglie aveva infatti revocato la costituzione di parte civile e in una dichiarazione sottoscritta davanti al suo legale aveva dichiarato di non voler procedere penalmente nei confronti dell'uomo. Il marito era tornato in Marocco, si era già visto togliere dal riesame la misura degli arresti domiciliari, inizialmente disposti dal GIP, con obbligo solo di stare lontano dalla donna. Ci spostiamo ora a Prato Carnico. L'altra notte i soccorritori erano riusciti a mettere in salvo i giovani ragazzi che avevano intrapreso la ferrata ed erano rimasti intrappolati nelle montagne. Oggi sono gli stessi ragazzi a lamentarsi per i tempi d'attesa. Sono stati tratti in salvo l'altra notte dai tecnici del CNSAS di Forni a Voltri, assieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e ai carabinieri di Tolmezzo, i quattro ragazzi rimasti bloccati in una ferrata sopra Prato Carnico. La richiesta di aiuto è partita verso le 17 da una comitiva di quattro ragazzi, studenti universitari friulani tra i 24 e i 25 anni. Due ragazzi ed una ragazza di Udine ed una donna tedesca che studia in Italia. I quattro erano in escursione sul Creton di Culzei, a quota 2460 metri, tra le montagne della Val Pesarina. Secondo il racconto fatto ai soccorritori, erano partiti al mattino dal refugio dei Gasperi per percorrere la ferrata dei 50, ma al momento di affrontare l'impervia ascesa di riento attraverso la forca dell'Alpino, i quattro che sarebbero stati sprovvisti di torce elettriche e di ramponi, indispensabili per scendere il canale solo in parte attrezzato, si sarebbero spaventati. A quel punto hanno chiamato i soccorsi, che si sono messi subito sulle loro tracce. Dato però il rapido calar del buio, l'elicottero della protezione civile non abilitato al volo notturno non sarebbe stato in grado di garantire un recupero in aria. E così cinque tecnici li hanno tranquillizzati, partendo poi a piedi per raggiungerli, ma come riferisce il capo stazione del CNSS di Fornivoltri, Ruben Blanzan, i quattro ci hanno chiamato più volte a cellulare, sollecitando l'intervento. Erano irritati sia per l'indisponibilità dell'elicottero, sia per l'attesa. I soccorritori partiti verso le 18 li hanno raggiunti intorno alle 21.30 e dopo averli rifocillati li hanno scortati verso il De Gasperi e le loro auto, dopo una scarminata non facile a causa di tratti ghiacciati, terminata alle 3.30. Ancora una volta ci siamo trovati di fronte a gente che sottovaluta la montagna, sostiene Blanzan. Erano carenti della trattatura necessaria, ma la loro prima escursione annuale e per raggiungere la vetta ci hanno impiegato 8 ore, quando la percorrenza media è stimata in 4 ore, 4 ore e mezza. Sicuramente poi la loro non si presentava un'emergenza sanitaria e c'era inversione termica per cui non faceva freddo. Non si può partire all'avventura, conclude Blanzan, e poi approfittarsi del sistema dei soccorsi, che tra l'altro costa la collettività risorse e i volontari, fatica e rischi. E ai nostri microfoni a Udine ha parlato il presidente della provincia proprio di Udine, Pietro Fontanini. Allora, vediamo insieme il servizio. Onorevole Pietro Fontanini, lei in qualità di presidente della provincia ha un ruolo determinante, fondamentale, all'interno dell'ente Friuli del mondo. Quell'ente che forse più di altri rappresenta nella modernità quello che vengono chiamate le funzioni urbane superiori, perché ha un'immagine e ha un ruolo di carattere internazionale. A che punto siamo dopo la riunione a Trieste dei stati generali che la regione del Friuli Venezia Giulia ha organizzato? Il punto è che stiamo rinnovando il gruppo dirigente di ente Friuli nel mondo, ci riuniremo ai primi di dicembre perché c'è la votazione del nuovo direttivo, ci sarà poi anche il nuovo presidente, perché l'attuale presidente, Pittero, per l'età che ha raggiunto, ha chiesto di essere sollevato da questo impegno. impegno importante perché oltre ai convegni come quello che lei ha citato a Trieste c'è il collegamento con i tanti Fogolars che sono in giro per il mondo. L'ente Friuli del mondo ha più di 100 Fogolars che ce ne sono un po' in Italia, ma soprattutto si va dall'Australia fino al Canada e quindi c'è necessità di incontrare tante persone e quindi bisogna avere la disponibilità di viaggiare, di tenere vivi questi rapporti che sono importanti anche sotto l'aspetto economico, perché quando le delegazioni dei nostri industriali vanno all'estero, in Canada, negli Stati Uniti, in Argentina, trovano supporto anche dai Fogolars e da queste persone che vivono là che tra l'altro alcuni di questi hanno raggiunto anche buoni risultati per quanto riguarda la loro attività economica. Cito un esempio per tutti, la Freedom Tower, cioè la torre che è stata costruita a New York al posto delle Torri Gemelle è stata costruita da una ditta di friulani, di friulani che vivono in Canada e che negli Stati Uniti hanno vinto questo appalto e tra l'altro il presidente di questa società è un grosso amico dell'ente friulani del mondo, del Fogolar di Windsor, dove lui vive e che quindi ha dato grosso prestigio anche ai friulani, perché, ripeto, ci sono moltissimi friulani che hanno raggiunto posizioni economiche molto importanti e questo è un orgoglio per noi perché dimostra che insomma la qualità dei friulani è una qualità buona, di gente che sa lavorare, che sa raggiungere ottimi risultati. E a Pordenone siamo invece andati ad ascoltare l'Avvocato Cevolin. Professor Guglielmo Cevolin, diritto pubblico a Udine, all'Università. In questo periodo stanno presentando dei ricorsi rispetto alla nuova legge elettorale, l'Italicum. Che giudizio dà lei a questa riforma? Ma allora, la riforma, diciamo della riforma un po' me ne intendo perché ho seguito con Ilvo Diamanti e con anche il professor Dalimonte che è stato un po' l'ideatore, il consulente del Presidente del Consiglio per scrivere questa legge. Abbiamo fatto dei convegni a Roma, abbiamo fatto anche dei convegni a Pordenone nell'ambito del corso di geopolitica e di storia. E qui un po' la critica che viene fatta è che c'è un'eccessiva semplificazione del panorama politico perché vengono adottati tutti gli strumenti di tortura per trasformare da un sistema tripartitico perché ci sono sostanzialmente tre grandi punti di riferimento nel nostro sistema elettorale per riuscire a ricavare da questo sistema con tre punti di riferimento ricavare un governo stabile. E per ricavare un governo stabile il sistema elettorale viene messo sotto tortura con tutti gli strumenti di tortura possibili e immaginabili. Si mette la clausola di sbarramento, si mettono il ballottaggio eventuale, si mette il premio di maggioranza, tutti contemporaneamente, cioè nessun sistema elettorale adotta tutti questi strumenti di tortura, di semplificazione, vengono adottati uno alla volta e invece l'Italicum li utilizza tutti. E quindi c'è un problema di eccessiva semplificazione da questo lato. E quindi più che ricorsi c'è il tentativo di impugnare con un referendum, una cosa oppositiva con il referendum e dal punto di vista giuridico come impugnazione avanti la Corte Costituzionale c'è la possibilità del parametro della sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2014 che ha sancito che è ammissibile secondo il nostro sistema costituzionale un sistema di razionalizzazione che semplifichi il panorama politico e il sistema elettorale dando stabilità. Però ha messo anche dei paletti nel senso che comunque deve essere salvaguardata la rappresentanza e quindi ecco il profilo qui è che probabilmente è eccessiva questa semplificazione che fa il sistema elettorale cosiddetto Italicum diventa eccessiva questa semplificazione che forse non regge al parametro che è stato stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2014. Gentili telespettatori vi ringrazio per averci seguito anche in questa edizione del telegiornale regionale. ricordo che il telegiornale va in onda alle 19.25 alle 23.30 e alle 1.50 e vi auguro un buon proseguimento di serata.